Protesta questa mattina degli ambulanti di Portapalazzo a Torino. I banchi sono chiusi per le norme della zona rossa, ma loro si sono incatenati. Devono farci lavorare perché stiamo morendo di fame. È l'appello di Giancarlo Nardozzi, presidente nazionale del sindacato Goya, gruppo organizzato di imprese autonome, che già ieri mattina aveva manifestato davanti alla prefettura di Torino. Vogliamo tornare a lavorare? Dice il governo deve fare qualcosa, non possiamo andare avanti così.